Il tema di questa sessione è Sciascia e l'ideologia. Allora inquadriamo il momento storico. Siamo alla fine degli anni 70, si sta consumando uno dei periodi più tragici della nostra storia contemporanea. Il 68 c'è già da dieci anni, ma è praticamente sul finire. Sì, dieci anni, perché durò questo. Questo fu il periodo della durata di quella rivoluzione culturale studentesca, quella che il professor Plinio Correa de Oliveira chiama la quarta rivoluzione, cioè la rivoluzione dei costumi. Dopo quella economica, dopo quella sociale, dopo quella religiosa, era arrivata anche il momento della rivoluzione dei costumi, di stili di vita completamente diversi. Una società in netta trasformazione, una società complessa, difficile, dove c'è anche una guerra civile in atto, perché nell'Italia di quegli anni, dal 68 al 78, e vi ricordo a voi giovani ragazzi, un bellissimo libro di Michele Brambi, La storia del 68, in quei dieci anni si consumarono quanto di più cose negative nella storia d'Italia si potevano immaginare. Lo scontro fisico che la faceva da padrona, ma dietro a questo scontro fisico c'era uno scontro culturale fortissimo. Le ideologie imperavano, si era nel pieno dell'ideologia in quanto tale, perché le grandi chiese ideologiche erano in quel momento forti come non mai, a cominciare da quel comunismo, il marxismo a cui ha appena accennato Antonello Capodici. In questo contesto matura qualche cosa in Leonardo Sciascia. Siamo nel 1978, lui che nasce con una formazione illuministica, lui che porta avanti anche un progetto di vita sicuramente ammirevole, straordinario, perché vuole riscattare la Sicilia, la sua terra, immagina nella giustizia uno strumento per poter cambiare realmente le cose, arriva questo 1978, carico di problemi, di difficoltà. I suoi anni precedenti sono stati difficili, aveva aderito al comunismo, era stato anche consigliere comunale a Palermo per libera scelta, faceva parte, d'altronde, tutti gli intellettuali da allora erano praticamente tutti di sinistra. A un certo punto si comincia a interrogare, c'è qualcosa che non va. Il governo rosso Andreotti Berlingueri, il governo del compromesso storico, viene pesantemente criticato per le negatività che apportava. Due tesi contrapposte che venivano a mettersi assieme in nome di un'emergenza, ma emergenza non era, perché continuavano a esserci nell'ambito della sinistra soggetti che continuavano a pensare che quelli che erano i terroristi venivano definiti da taluni compagni che sbagliavano. Sciascia diceva no, non erano compagni che sbagliavano, erano comunisti, erano portatori di un'ideologia che era basata sulla menzogna, sulla violenza, e comincia la sua crisi profonda, la sua trasformazione. Il colpo di grazia, l'ammazzata definitiva, gli arriva con il caso Moro. Col caso Moro lui vede Moro abbandonato dai suoi amici, vede Moro che viene in nome di una ragione superiore lasciato al suo destino. E però solamente questo gli rimane impresso nella memoria al punto che in un passaggio fondamentale della sua vita letteraria e culturale, lui ce l'avrà sempre in mente, il passaggio del tradimento degli ideali e dei valori. Lasciamo stare adesso quali sono gli ideali e i valori, però il punto è che ci sono dei tradimenti che si consumano nella storia. Tra le pagine di Sciascia c'è anche questa capacità di analisi, vissuta concretamente con questa delusione, dopo il caso Moro lui lascia la sinistra militante, approccia radicali, ma da quel momento il suo percorso è assolutamente diverso rispetto al passato, tant'è che prima era agnostico, forse anche atio, poi muore credente, comincia a scoprire il suo trascendente, che è un percorso iniziato in verità già da tempo, ma che lo comincia a connaturare sempre di più. Ebbene, dicevo, questa storia vissuta però trova anche un rafforzamento culturale, perché tra le pagine più importanti che lui riesce a scoprire, a commentare, c'è anche la polemica forte con un intellettuale di sinistra, allora Luciano Canfora, tutt'oggi vivente. Luciano Canfora e Sciascia hanno un contrasto fortissimo, che io non vi anticipo, perché il tema di tutto questo è una lettera apocrifa di Gramsci, cioè il padre del comunismo italiano, anche lui abbandonato su destino, anche lui, in verità, sacrificato in nome delle ragioni del partito comunista. Mi direte che cosa c'è nel caso Moro, dove c'è un tradimento e dove c'è un abbandono, con queste lettere apocrife di Gramsci che vengono commentate dialetticamente da Sciascia. Ce lo spiegherà molto bene il professore Stefano Rapisarda, docente dell'Università di Catania, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere recentemente, ma che conosciamo per la sua storia e per i suoi scritti da molto tempo.